Salve a tutti ragazzi, sono Ricky e oggi siamo qui su Splinter Cell Blacklist per fare una missione secondaria Intanto vi do il benvenuto di nuovo sul mio canale dopo queste vacanze estive Sono tornato perché vorrei rimanere attivo e vorrei anche coinvolgervi di più nel mio canale Appunto chiedendovi a voi adesso in questo periodo di attesa fino alla beta di Battlefield 4 Che video vorreste avere su qualche gioco in particolare Vi ripeto i miei giochi per chi non se li ricordasse o per chi non li sapesse Sono Black Ops 2, Battlefield 3, Assassin's Creed 3, Crysis 3, Sim City, Payday 2, Death Space 3, Medal of Honor Warfighter Poi abbiamo Lead for Speed Most Wanted, Sleeping Dogs, Splinter Cell Blacklist, Minecraft e Far Cry 3 Questi sono i miei giochi principali che gioco di più, che ho quasi finito tutti Se volete vedere qualche gioco di questi in particolare scrivetelo nei miei commenti E anche se volete vedere qualche cosa in particolare di quel gioco lì Questa qui è una missione secondaria Ho cercato di farla tutta perfetta senza farmi scoprire Ma alla fine ho fatto, come vedrete, un super fail E non ho avuto il bonus quindi non sono riuscito a farla perfetta Ma in realtà io l'avevo già fatta Adesso per prendere A in modo senza far si scoprire da nessuno Cioè posso fare Avete aspettare che questo tizio qua se ne vada via Quando se ne va via entrate e prendete A tranquillamente Intanto volevo chiedervi di passare sotto in descrizione Che vi lascerò appunto i tre link Che sono tre programmi della Razer appunto Che io uso E sono Razer Surround, Commons e Game Booster Il Razer Surround lo uso principalmente per Diciamo lo uso esclusivamente per le mie nuove cuffie che ho preso Sono delle Razer Crackin Pro E appunto uso questo programma per poter avere la migliore esperienza nel Surround Che lo sto vendendo Vabbè Vi serve appunto per decidere, per calibrare Le direzioni del Surround Le varie direzioni Dove sentite meglio quella direzione Voi la mettete Intanto mi fermo un attimo Che qui dove c'è C Quel cecchino lì è il VIP da catturare E appunto vi sto facendo per il Surround Ma non funziona soltanto con le cuffie della Razer Ma funziona anche con un qualsiasi paio di cuffie Che supportano il Surround E' molto semplice da usare Molto intuitivo anche E contiene al suo interno anche un equalizzatore che potete usare Poi abbiamo Razer Commons Che è tipo un Un social network barra Skype Diciamo Perché vi permette di avere una vista amici Crearvi dei gruppi E mentre giocate potete usare quello per mandare messaggi in modo Per mandare Ricevere e mandare messaggi in modo pulito all'interno dei giochi E anche poter Intanto qui vi faccio vedere l'interruttore da Sparargli per Per spegnere i laser Appunto potete avere Sì Così Intanto mentre parlate nei giochi Avete una limpidità della voce molto superiore rispetto al normale Poi abbiamo l'ultimo Razer Game Booster Che è tipo un Village Force Experience Se lo conoscete Se lo conoscete E appunto vi permette di aumentare l'esperienza di gioco Migliorando le prestazioni dei giochi E anche le impostazioni video Come vi ho detto prima Ho preso delle nuove cuffie Che sono il Razer Kraken Pro Ma non solo quelle Ho preso anche un nuovo mouse Un Razer Imperator 2 Sensor 4G Intanto qui vi faccio vedere dove andare per prendere B E anche una nuova scheda video Che è una NVIDIA GeForce NVIDIA GeForce 760 M6 Gaming Edition Qui c'è l'altro interruttore Dove ci sarà il portatile da prendere Che si troverà su quella scrivania più o meno Lì dove sta indicando adesso Ehm Poi Vabbè Vi ringrazio di essere rimasti iscritti al mio canale Volevo chiedervi anche se Se ne avete voglia Adesso qui farò il mega fail Lo vedrete Di Ecco mi sono stato visto Quindi qui perdo il bonus Non lo uccido Perché non mi piace usare La Lo stordimento letale Preferisco quello non letale Che vi fa guadagnare più punti Ehm Condividetelo tra i vostri amici Fatemi conoscere anche tra i vostri amici Se vi piaccio Così almeno potrò crescere Magari farvi vedere qualche nuovo gioco in più Qualcosa di diverso Ehm I miei giochi ve li ho detti tutti Scriveteli nei commenti Se ne avete qualcuno in particolare La maggior parte di quelli che vi ho detto Al multiplayer Poi se magari Volete qualche cosa Tipo qualche consiglio Su dei giochi Magari sull'hardware da comprare Riguardante pc Vabbè Qui un altro fail Chiedete pure Io vi potrò rispondere O nei commenti O come messaggio privato Tranquillamente Se volete aggiungermi Se volete aggiungermi sono Mi trovate sempre sotto il nome di Rikki955 In tutte le piattaforme del computer Per pc Poi ho anche Vabbè ho anche vari giochi Per la Wii U Ma che non posso farvi vedere Perché non posso registrarli Il video sta per finire Vi ringrazio Di avermi seguito Un saluto mio Da Da RikkiTrick Vi ricordo di commentare Per scrivere Qualsiasi gioco Che volete vedere Mettete un mi piace Iscrivetevi Se non l'avete fatto E se ne avete voglia Fate passare il video Tra i vostri amici Quindi Per oggi è tutto Vi ringrazio Di essere Rimasti con me Durante il video Ci vediamo La prossima volta Un saluto Da RikkiTrick